E allora io vorrei lanciare il video che raccoglie i tre progetti vincitori in modo perché sono tre video molto belli, come vedrete molto veri, alcuni anche molto forti, non sono concetti scontati, alcuni sono controcorrente ma li abbiamo voluti premiare anche per questo. Grazie. E tu, lo sapevi che da oggi esiste un nuovo modo facile e divertente per imparare la legalità? Si chiama Scala Legale! Scegli un obiettivo, gira la ruota e pesca una carta e se rispondi correttamente prendi un mattoncino. Ma attenzione! Gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Pesca la carta imprevisto. E se hai troppi punti in legalità, la tua infrastruttura crolla! Non appena la tua infrastruttura sarà costruita e avrai totalizzato meno punti in legalità di tutti, hai vinto! La scuola prima classificata è il liceo Caboto di Chiavari. Il nostro gruppo di quattro studenti, un tutor e i rappresentanti, gli undici rappresentanti della classe. Bravi, bravi davvero! Il primo classificato naturalmente verrà premiato, la scuola prima classificata verrà premiata dal Presidente del Consiglio. Allora, ti disegniamo come rappresentante? Da proprio! Bravi, bravi! E naturalmente ringraziamo e vorremmo premiare, ma li premiamo nella sostanza, tutti coloro che si sono occupati di questo progetto. I ragazzi, gli insegnanti, i nostri tutor che davvero con un impegno straordinario si sono dedicati a questo progetto. Consideratevi tutti premiati. Bravi, un applauso a tutti! Grazie! 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 Grazie!